Buongiorno, buongiorno, oggi è giovedì 7 aprile, la segna stampa in breve di Video33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo variabilmente nuvoloso sull'intero territorio altoatesino, incidente senza gravi conseguenze ieri sera intorno alla 23 alle porte di Sarentino. Massimo Morra in regia, col suo aiuto teme un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola all'Alto Adige, il ministro degli esteri austriaco Kurz oggi a Bolzano per dire fermeremo i profughi, spiega la linea dura sul Brennero. Rifugiati, una partita contro i pregiudizi, match al druso tra l'Alto Adige e i profughi. Benko dice mi lancio sul Megastore e poi mi concentro sulla Reale di Bolzano. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, Benko, comune bacchettato, parcondicio, duro intervento del garante. Penta dice ho rispettato lo statuto. Commissione dei 12, commercio, liberalizzazioni frenate, è stata varata la norma. Autobrennero, l'avvocato Girardi sarà il nuovo presidente, partito democratico tagliato fuori par Daccer, ancora amministratore delegato. Troviamo in edicola anche il segno che dedica la sua apertura, il suo approfondimento a Monsignor Ortisi, il nuovo arcivescovo di Trento, pastore tra la gente. La cronaca in lingua tedesca cura del quotidiano donomite nella Convenzione sull'autonomia, i malumori riguardo alcuni nomi pesanti all'interno della composizione e poi decreto salva casse rurali che interessa ovviamente anche la provincia di Bolzano. Sempre per la cronaca in lingua tedesca il quotidiano Tagest Zeitung. Intervista in esclusiva ad Hans Kammerlander che definisce l'incidente, il gravissimo incidente che l'ha visto coinvolto e risultato positivo all'alcol test lo definisce il più grande errore della sua vita. Chiudiamo con il settimanale FF, la copertina, l'approfondimento interno, progetto Benko, risultato del referendum, tutto quello che c'è da sapere e il futuro del centro di Bolzano. Vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33. Grazie a tutti.